Essere te Tempo per esserci Non bastano Non spiegano L'uomo nel suo puro essere là D'essere oltre la sua entità Chi sono io, Martin Heidegger? No, non lo so Non lo so Non lo so Credo solo che ragionandoci Da quel buco il ragno non lo tirerò via Credo solo che ricamandoci Resto al palo immobile là Per professor credo d'essere A prescindere dall'esserci La mia forma come lampada Manifesta l'elettricità La lampadina è un involucro Sta solo fra aria ed aria L'aria di dentro diversa non è Dall'aria che fuori sta in libertà Senza quel vetro è il professor Aien Fuori dal suo tempo e dal suo esserci Essere nel mondo del cuore è un esserci o no Essere nel mondo mentale è un esserci o no Essere un mare d'amore è un esserci o no Essere immenso dolore è un esserci o no Essere fuori dal tempo è un esserci o no Essere fuori dal tempo è un esserci o no Essere l'erba del campo è un esserci o no Essere uno col mondo è un esserci o no Essere il mondo col mondo è un esserci o no Essere un lampo del tempo è un esserci o no Essere sale in un mare è un esserci o no Essere sale in un mare è un esserci o no Essere un'onda e schiumare è un esserci o no Nel silenzio dello spirito L'essere è un silenzio che non ha Filamenti da bruciare ma È un'oceano d'elettricità